E psicosi a canneto di Caronia, dove dieci anni dopo sono ripresi gli incendi del mistero. Dopo l'ispiegabile fusione del quadro elettrico di una casa disabitata insieme ad altri episodi inquietanti, gli uomini della protezione civile hanno effettuato un sopralluogo nella piccola frazione. Davanti ai loro occhi i volti ansiosi e preoccupati dei residenti, che non possono tollerare l'idea di rivivere il dramma del 2004. A parlare per tutti è Nino Pezzino, un residente in via del mare e assessore al comune di Caronia, che non nasconde la sua preoccupazione. Io non so proprio cosa dirgli. Il fatto che dovremmo riniziare quel calvario, credi, mi viene pesante anche a me. Io che l'ho vissuto prima persona, fuori di casa, per mesi a casa affittata, poi per anni in albergo. Insomma, io non ci voglio manco pensare. Per l'ingegnere Rosario Di Prazza della protezione civile regionale, che ha eseguito il sopralluogo, la prima cosa da fare è riprendere il carteggio del 2004 e tornare a monitorare la zona. Ma nel frattempo il comune si è attivato in termini di prevenzione. Stiamo cercando di far arrivare degli estintori sul posto, la nostra attenzione, anche come fatto nostro di volontariato, e adesso stabiliremo con la protezione civile di Palermo cosa fare, adesso vediamo se dovrà avvenire l'ARPA per controllare questi campi magnetici, il CNR. '. Grazie a tutti